Pace e dialogo. I francescani sono sempre stati custodi di questi messaggi e, anche se appartengono a tanti secoli fa, sono più che mai attuali. Una pace però attiva. Francesco riserva ai più coraggiosi le sfide più importanti e, alla luce di questo, si fa ambasciatore della pace con coraggio e con azione. Questo dialogo, questa positività, ci deve permettere di abbracciare le sfide del nostro mondo, in un mondo in cui, ad esempio, la nuova tecnologia può essere vissuta o come arca o come diluvio, o come grande opportunità o come rischio. I valori di Francesco sono più che mai attuali e contiamo che questo evento, il Cortile di Francesco, possa essere di grande importanza per tutti noi.